Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 vi spiegherò come aprire la cassaforte del matrimonio, che trovate nel capitolo alla ricerca di Nora nel condominio. La cassaforte e la combinazione si trovano in questa stanza, ma la porta è inizialmente chiusa, per cui dovete saltare qui dalla finestra, saltare su questo pianerottolo, rompere la finestra ed entrare nella stanza. Qui aprite la porta, la combinazione è la data di matrimonio della coppia, quindi la combinazione è 8-08, perché è il giorno, 10-ottobre, l'anno fanno 30 anni, quindi 83, quindi la combinazione è 08-10-83. Questa è la cassaforte, inseriamo la combinazione e vediamo cosa succede. Allora, 08-10-83. E la cassaforte è aperta.